Riconosco, 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 che a Carpini sono più furbi, i Carpini sono più furbi di Cagnani, perché in questione dell'olio, i Carpini hanno capito che poteva essere un filone che Cagnani tenevano un territorio di oliva, che a Carpini ce lo mangiava, che le ha bruciato, con quanti anni tenei? Cagnani, già 70-80 anni, tenevano 15 frandogli a Cagnani, ora ci stanno mandando un frandogli e stanno tutti a Carpini, stanno 10 frandogli a Cagnani. Sì, vabbè, chiedo scusa, un po' di cutter, come hai da fare? Con abbondante olio d'oliva. Sì, vado scusa, anche i Carpini. Mario, ti do io un altro. Vabbè, ma poi, silenzio. Il pane cotto da Carpini ci mettono sempre i rap e i patana, e i patana perché quelli che non c'erano. Invece, a Cagnani, a Cagnani, ci mettono tutti quanti quelli che c'erano. Niente! Il cappuccio, il giuparduzzo, il giugorio, le scarole, le buraine, le patane, le fave. Ci mettono tutto. Ah, c'era tutto qua. Questa è la morale, questa è la morale. Facciamo il pane cotto, però durante il pane cotto, il peperoncino c'è dentro il pane cotto. Quello lo possiamo mettere. Come possiamo mettere il pane cotto? Mario, io parlo e poi parli tu. Noi facciamo il pane cotto, ma il pane cotto è una scusa, perché dopo il pane cotto ci sta la salsiccia. Ah, ma la carne! Ci sta il caciocavallo. Eh, ma posto! Lei fa... Allora, mattina! Lei fa con la borragia? Rita! Con la borragia. Lei fa venire il cappino? No, con la borragia. Sono arrivati... Quale borragia? Scusate! Inchiudemoro! Inchiudemoro! Scusalo! Siete le fame di Carpino! Sono arrivate sulla luna! Potete smentire questo voi? Ah, è vero! Eh, bravo! È vero! Stanno tutte là perché qua non ce ne sono più... Stanno tutti sull'anno! Comunque... 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 Che volevo? L'etichezza di Carpino, ma i fabri hanno da gagnare! Ah! La coppa è peggio! Peggio! Ma tu non siete capaci là di questo! Loro avevano sei frantui, non ce ne hanno uno, non ne abbiamo sette! Che siamo la metà di Cagnano! Sono stato cazzo in culo di Carpoliso o sono stato freddo di Cagnano? Ah, taboo! Ah! Ma tu stai anche dicendo? No, gliel'ho detto prima! Ce l'hanno anticipato prima! Mario! Mario! Tutte le donne di Cagnano sono state sposate da gente di Carpino! Sono stato cazzo in culo di Carpoliso o se l'essi saprà niente! Eeeh! Eeeh! Ti lascio uno di Cagnano! A questo rispondo io! Eeeh! Tutti quanti gli imberlocchi di Cagnano che non sapono... che c'hanno insulato dove c'hanno insulato? C'hanno insulato! Oh, mamma mia! Eeeh! Allora, uno di questi, uno di questi interlocchi è Antonio che ha la moglie di Carpino! E' da te! Se a me ti dite qualcosa sopra Rosa Rosa! Allora... Rosa è una bella donna! Aspetta! L'unico... Di chiamare di Cagnano non è differente! Sia... Sia rosa... Sia rosa che... che... hanno capito la mia metafora! Dire... Il nostro prodotto le pavie di Carpino sono arrivate sulla luna! Allora... Allora... E io ripeto... E io ripeto a Dico che l'etichetta che aveva di Carpino le pavie hanno di Cagnano! Vabbè, ma loro sono stati più scattati hanno saputo che... Eeeh! Quella è... Questo lo riconoscivo! Questo lo riconoscivo! Però non so se avete notato! Ma proprio a nulla eh! Si parla delle pavie di Carpino si parla dell'olio però prova a finire sempre al fatto che le pavie di Carpino sono andati si parla! Da qualsiasi argomento si parla! Hanno capito che a niente si parla... Bago! Scusa! 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 Però... Stamattina c'era un'affluenza di donne che come ti hanno registrato? Aspetta! Ma sta salito! Ah! Ah! E su questo sono contento! Gli uomini! Ma le nome l'hanno accerchiato! Proprio da sedio! Ah! Diciamo che l'età era piuttosto... Mi piace! Mi piace! Scusa! 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 E questo è unissimo chiffon! Cosombine... Questa con la notiziazione. Diri la pot 2025